mezzo meccanico in movimento per questa seconda del convegno femmine di tre anni sul miglio non corre numero tre vervi e se ne rimangono in sette 20 miglia getta mario minopoli la più gettonata mezzo meccanico in movimento la femmina di minopoli una from above allineamento completato un po' arretrato veronica jet numero 5 prende velocità la macchina tutto sommato più che buono l'allineamento vaduz camp ha le prese a largo con valchiria prosegue valchiria l'inserimento di 20 miglia che punterà in avanti probabilmente si completa il lancio in 13 e 6 e 20 miglia punta su valchiria rimane a largo anche valle susa le cavalle completano la piegata e anche il quarto iniziale quarto che se ne va in 29 e 7 20 miglia passa stappata sull'avversario dopo 500 da 1 e 14 al comando nasina al vento per la valle susa e la leva di merola va sulla nuova leader 45 600 valle susa impegna 20 miglia che deve riallungare le cavalle affrontano la penultima curva si va al completamento del mezzo miglio iniziale mezzo miglio nell'ordine dell'1 1 e 4 è chiaro 16 e 4 la frazione impiegata valle susa 20 miglia poi valchiria vaduz camp very beautiful par penultimo rettilineo si completa il chilometro nell'ordine del 17 1 15 e 7 di frazione per il momento la leader sembra tenere agevolmente impugno the situation le cavalle affrontano la curva finale chiusa murata e per il momento è la valchiria frazioni in 15 1 32 1 i tre quarti di miglio ora c'è spazio la valchiria sul cedimento di valle sus tenta lo stacco 20 miglia e 20 miglia ne guadagna una in mezza di margine retta d'arrivo 20 miglia si distende alla grande la from above poi una valchiria che tenta ma ormai sembra che non ci sia più tempo poiché dopo un po di stop and go mario minopoli al doppio già in questo pomeriggio si afferma sulla stessa allieva di vincenzo lungo bel primo piano un costo costo quasi di questa from above guidata al meglio sempre da mario minopoli junior riesce a fare anche un po di stop and go 2 2 8 1 16 8 il totale totalizzatore che borbotto 1 e 76 per il terzo posto dopo un po molto tempo veronica jet per la dottoressa balzano si migliora e si migliora bene bene linea lo studio